oh vabbè dovrei fare questa tendenza che figo devo esercitarmi stasera forse holly si unirà me sembra facile bene cosa sta succedendo cosa sono questi qualcosa sta succedendo sono un gatto concorso di bellezza non vincerai mai devo vincere devo pulire questo pasticcio che tipa strana ok cominciamo la lezione che noia oh no com'è possibile che stai facendo mi dispiace impunizione piccio del preside qui pesce 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 arrivederci ok ciao ok ciao ci vediamo più tardi oh eccoti qua questa è la mia tazza come ci sei arrivato tu qui torna nel tuo acquario va bene signorina sono davvero deluso non questo no ah concorso di bellezza meno cinque punti dunque oggi ci sarà il test finale buona fortuna col testo prima parte fatta tempo scaduto non ho ancora finito come ho detto il tempo è scaduto nel tuo testo un quattro oh ah oddio queste unghie ehi oh wow scusa me le presti oh cosa stai facendo i miei tesori i miei tesori una banana così gustosa oh wow wow ah 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 oh ah 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 Mi serve aiuto! Di nuovo! Vediamo come lo risolto! Ok, professoressa! Questo funzionerà! Che c'è? Aiutami! Ok! Facile! Otto più per Judy! Ho finito! Judy! Wow! È ora di prepararsi! Wow! È fighissimo! Ancora un po'! Questi artigli! Devo fare qualcosa! Funzionerà! Forbici forza! Oh sì! Sono un genio! Fatto! Sì? Non posso! Domani è il mio giorno! Oh, silenzio! Mattina! Oggi è il grande giorno! Devo prepararmi! Oh no! Sì! Oh, e già mi sono portata avanti! Non provarci neanche, non vincerai! Ciao ragazzi, io mi chiamo Lexi! E questo è il mio spettacolo per voi! Simpatica! Matt? Che stai facendo? Molto bene, molto bene! Rovinerai il mio spettacolo! Sì! Sì! Sì, bene! Grazie, grazie! E la vincitrice è lei! E intende me? No, no, no! Quella ragazza, proprio lì! E... Con catturazioni, Judy! Che cosa? Il mio preferito! Ora devo prendere una forchetta! Devo fare in fretta! Oh no! Dov'è la mamma? Mamma, ho vinto! Che cosa? Era solo un sogno! Ho finito! Aspetta un attimo! Ho le orecchie da gatto! Ma dai, ho gli artigli! Stupida carta igienica! Sono Catwoman! Che diavolo sta succedendo qui? Nessuna festa finché non pulisci questa stanza, capito? Ma mamma! Mettiti subito al lavoro! Non di nuovo! Tu! Ferma lì! Che cos'è? Ma stiamo scherzando! Sono così affamata! Forse posso ordinare qualcosa! Ehm... 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 Ok! Siri, ordina del cibo! Ordina un tipo! No, no, no! Del cibo! Ordina del cibo! Oh! Oh! Ah! Ah! Cibo! Ah! Il mio preferito! Hm? Hm? Wow! Ah! È ora di mangiare! Hm? Buono il sushi! Oggi sarà un grande giorno! Festa! È ora di prepararsi! È ora gli artigli! Belli, belli i miei artigli! Ciao! Ehi, la festa è alle tredici! Sì, sto arrivando! Oh! Oh no! Oh! I miei artigli! Niente artigli belli! Oh! Ah! Mmm! Oh! Ah! Questo è quello che stavo cercando! Ah! E ora il trucco! Perfetto! Oh, sì! Oh, no! I miei capelli! Molto meglio! Oh, ciao! Dove sei? Ci sono quasi! Casa di TickCocker di Lala Vita! Dunque, questo è il soggiorno! Non dargli retta! Andiamo a vedere le camere! Non ci far caso! Ok! Ciao, ragazzi! Oggi abbiamo una burger! Oh, ciao, ragazzi! Ciao! Ok, ora vediamo la tua stanza! E questa è la tua stanza! Goditela! Ma che bello! Wow! Oh, delle bevande! Questo succo è strano! Perché gelatina? Ho sete! Buongiorno! Dovrei prepararmi! Oh, che schifo! Oh, no! Oh! Wow! Ottimo! Ma che figo! Oh, cosa stai facendo? Ehi, vieni! Unisciti a me! Prova! Vorrei bere qualcosa! Proprio quello che volevo! Oh, che cos'è? Che cos'è? Dove? Facciamo questo TikTok! Oh, è bellissimo! Non è cambiato niente! È tutto ok! Sei in ritardo! Siediti, Ollie! Ok, ragazze, preparatevi! Avete 30 secondi per preparare la vostra attrezzatura! Via! Via! Sì, 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 sì. Sì, anch'io! Pure io! Cioccolato! Ehi! È il mio cioccolato! Grazie, ragazza! Cosa stai facendo? È un TikTok col trucco! Mi piacerebbe provare! Certo! Non male! Cosa stai facendo? Cosa stai facendo? Wow! Che figo! Ti piace? Prova a fare un TikTok! Oh! 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 È la migliore esperienza di sempre! Grazie tante!